Ricche di vitamine, minerali, sostanze antiossidanti, le alghe sono davvero un alimento unico e utilissimo per una completa alimentazione. Eccone 5 super nutrienti da provare subito. L'alga kombu è un'alga bruna di acqua salata, contenente iodio, ferro, calcio, magnesio, fosforo, potassio, ma anche acido algimico, utile per favorire l'eliminazione dei metalli pesanti. Può essere mangiata cruda previo a mollo di 10 minuti, consumandola poi con l'aggiunta di un po' di succo di limone. Provala anche con i lecuni, ne migliora la digeribilità. Alga wakame è ricca di iodio, magnesio, vitamina C e tutto, ed è utile per il benessere di pelle e capelli. Può essere utilizzata per la preparazione di zuppe o consumata cruda dopo a mollo di 10 minuti, aggiungendola ad insalate o a pietanze di cereali e legumi. Alga nori è un'alga rossa di acqua salata, contenente vitamina A, acido folico, potassio, sodio, fosforo, oltre al 35% di proteine sul prodotto secco. Si presenta sotto forma di fogli utilizzati per la preparazione del sushi. Può essere anche mangiata dopo averla tostata per qualche secondo direttamente sulla fiamma. Alga spirulina, considerata a tutti gli effetti un superfood, è stata definita dall'OMS il cibo del futuro, perché contiene fino al 70% di proteine, ferro, vitamina in particolare la E, le vitamine del gruppo B e il beta carotene. La spirulina può essere consumata in polvere, nei frullati o in pezzi da sgranocchiare o da aggiungere alle insalate. Alga chlorella ha proprietà nutrizionali simili alla spirulina, anche se rispetto a quest'ultima contiene un po' meno proteine e invece è molto più ricca di clorofilla. E per questo è un ottimo disintossicante per il nostro organismo, allontro un'azione ricostituente e di sostegno per il nostro sistema immunitario.